Ciao, io sono Aurora e ho 5 anni, frequento la scuola dell'infanzia dell'istituto comprensivo di San Giuseppe Iato. Quest'anno è stato un anno molto particolare, all'inizio i bambini andavano a scuola, giocavano e imparavano. A me piace tanto la scuola, all'improvviso tutto è cambiato. È arrivato il coronavirus. Il coronavirus è un piccolo mostriciattolo che sogna di invadere in tutto il suo mondo, condanciando tutti è molto dispettoso e pericoloso per la nostra salute. Bisogna restare a casa per i nostri contagiati. E noi siamo più potuti andare a scuola. Mettiamo la mascherina e rispettiamo la distanza. E noi siamo più potenti arrivare in tutto il suo mondo, Vattene via! Vattene via! Vattene via! Vattene via! Le nostre maestre hanno inventato un nuovo modo per comunicare con noi. Vorrei tanto uscire e andare a scuola, ma per fortuna c'è il computer che ci permette di vederci. Torna il sorriso! 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 Scegli che c'è l'altro! Dio giallo, prendo il giallo! L'ha fermata un tratto, guardarsi negli occhi per poi dire Andrà tutto bene, andrà tutto bene Guardarsi negli occhi per poi dire Andrà tutto bene, andrà tutto bene, lo so Quando la ciao, la tua voce è musica Riempie questa stanza, colma la distanza Non dirmi ciao, resta ancora qui perché Questa notte è un po' più oscuro, il silenzio fa paura Ritornerà l'abbraccio tra la gente, il sole sulla pelle Tornerà la libertà di urlare a tutto un certo Come abbiamo sempre fatto un tratto Guardarsi negli occhi per poi dire Andrà tutto bene, andrà tutto bene Guardarsi negli occhi per poi dire Andrà tutto bene, andrà tutto bene Guardarsi negli occhi per poi dire Andrà tutto bene, andrà tutto bene Andrà tutto bene Grazie a tutti. Almeno c'è la cia, più pulita e trasparente, si vede o tre le sue. Tutte queste farfalle siamo dei bimbi e presto torneremo a volare. Siamo tutti lontani, al più presto ci abbraceremo. E staremo? Insieme. Non vedo l'ora che finisca tutto. Non vedo l'ora di rivederti e abbracciati e giocare con tutti voi. Siamo stati in casa, ci 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 siamo stati in casa. E abbracciare passati, passati e liberi. E giocare tutti in sene. Siamo stati in casa, ci siamo stati in casa, ci siamo stati in casa. Anche se devo indossare la mascherina, non voglio più riducere e abbracciare le nostre porte. Mi sono mancati i miei compagni e l'acqua. Quando tutto sarà finito, non vedo l'ora di riabbracciare le mie maestre e i miei compagni. Mi mancate tanto, non vedo l'ora che vi riabbraccio. Comunque, vi faccio un dirino a tutti. Eppure, speriamo pure che porti il coronavirus. Così potrò baciare a tutti. In questo periodo, mi sono mancati i compagnetti. Per giocare con i compagnetti e salutare le maestre. Ci mancate tutti, un bacio e un abbraccio. Mi mancate tanto, non vedo l'ora di abbracciarsi in questo. Non vedo l'ora di vedere le mie maestre. Ci vediamo a scuola. Mi mancate tutti tanto, anche la maestra che mi piace. Mi baci, abbracci con la mascherina però. Andrà tutto bene e ritorneremo dall'inizio. Fratelli, Italia si è a destra dell'elmo di Scipio. Se cinta la testa dove la vittoria le porta alla chioma. Che schiava di Roma il Dio la creò. Sion pronti alla morte, siamo pronti alla morte. Sion pronti alla morte. Sion pronti alla morte, siamo pronti alla morte in Italia. Con la didattica a distanza Siamo già a giugno Stanno arrivando le vacanze Ci rivediamo a settembre Perché tutto andrà bene Andrà tutto bene